Questo è l'interpretazione per la nuova collezione del sandalo col tacco blade ma in questo caso lo vediamo mischiato con un materiale che a me piace molto e trovo che sia veramente importante la nostra collezione. Il mix tra un materiale che viene utilizzato nel mondo dell'occhiale e qui lo troviamo inserito nella nostra scocca col tacco blade, una leggera platform dove il materiale dà luce, colore, questo tipo di materiale dà una modernità e dà un'unicità alle nostre calzature uniche. Sono molto soddisfatto e contento di avere realizzato questo materiale che un po' assomiglia all'effetto del marmo e della madre perla insieme e dà alla nostra calzatura un'innovazione e una modernità secondo me importante per quello che sarà l'estate del 2013.